Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale! Li ho visti in uno shorts Appena li ho visti ho cominciato a guardarne altri Bellissimi Appena li ho visti Amazon Esatto, sono la prima serie Dovete comporre dei cibi con delle resine Esatto Quindi potete trovare Cereali, poi c'era la macedonia Vai, applica e magari dentro c'è una mini check Sì, mi pareva di sì Poi c'è la macedonia La macedonia Esatto, poi c'era la torta di mirtilli Io ne ho visti tanti I cereali mi sono piaciuti molto Sì, anche i cereali erano belli In pratica sono vari componenti da mettere insieme Più un liquido che poi si indurisce E fa diventare un cibo da collezione Non c'è niente Secondo strato Non sappiamo com'è, non l'abbiamo mai fatto Quindi dovremo questa volta Se sarà necessario mettere in pausa Looks, Surreal Surreal Forse c'è il bubble tea Boh Ah no, ecco guarda Qua c'è le ciambelle Ci sono le ciambelle Ti fa vedere alcune cose Qua Bene Vedi ciambelle Il bubble tea che non c'è più Perché l'ho strappato via Con calma Sì, noi non ce la faremo mai Ad aprire Oh, alleluia E ce n'è un altro Sì, è rimasto incollato Ok Sfiniamo questo Ok E adesso E ci siamo Come sia? Eccolo qua C'è dello scotch qua Non è mica finita C'era anche questo No Bene, vai Apri Allora Allora Checklist Qua non voglio guardare niente No, quella è la checklist È la checklist? Secondo me sì Perché qui poi ci sono le istruzioni Ah, ok È la checklist? Confermi Sì, sì, sì Allora Vedete Quello che possiamo trovarci Sono bubble tea Voglio il primo bubble tea E questo giallo E anche il penultimo giallo E anche questo Calma Poi c'è il lime Poi c'è la limonata Poi c'è quello con l'ananas E poi sotto abbiamo Io ho visto questo Frutta mista Donuts E questi sono Cereali E i cereali Di vario tipo con latte E qui c'è come Comporli Comporli Faremo con molta calma E andiamo a vedere Questo cos'è Le istruzioni Aspetta Io comincio ad aprire Tutto Ah no, aspetta Perché sarà una cosa lunga Queste sono tutte le istruzioni Aspetta Da questo Si può capire cos'è Sì, ma mi servono le istruzioni In Dov'è Keep cool Italiano No Abbiamo trovato La È possibile Ci sono in mille lingue diverse La limonata Dovremmo aver trovato Mi passi anche l'ultimo foglietto Perché non si capisce Questo è in cinese Questo è in arabo Questo è in giapponese Dovrebbe essere la limonata Comunque Io comincio ad aprire Questa qua Oh Composizione Allora Aspetta che leggo Io intanto apro Ascoltano anche i nostri amici Il contenuto Può variare rispetto alla foto Bla 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 Riporre ed esibire Sconnette le perno a Aspetta un attimo No vabbè Guarda la cannuccia Sì Io sto lavorando Sì ma è È super realistica Sembra Montaggio del tavolo C'è anche un tavolo Sì Dovrebbe essere All'interno Allora Preparare il piatto La bevanda utilizzando Gli ingredienti Seguendo passo qua Sparare una puntina Contenere gli ingredienti Per cui le contazioni Potrebbero contenere Dei pezzi in più Attivazione Dopo aver preparato il piatto La bevanda Spostare in una zona soleggiata Su un vassolo Sporre la resina Al sole diretta Per almeno 5 minuti Intanto che la resina Viene indurita Verificare che la resina Si sia indurita Solo con le pinze fornite Una volta finito Pulire tutte le superfici Bla 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 No Perfetto Tanta tanta carta Da buttare Eccole le pinze Più questo cosino Che va messo sopra qua Perché diventa una specie di Ehm Allora Una cosa alla volta Apriamo le pinze Che sono in un contenitore E qui abbiamo Guarda Guarda che carino Bello Queste sono le pinze Che dovremmo utilizzare Per cucinare Questo ci dice Di metterlo Qua sopra In modo che diventi Una specie di Vassolo Però Non ci è andata male Perché era uno di quelli Che volevo Allora Prendiamo le istruzioni No Guarda il ghiaccio Aspetta che non si mette a fuoco Metti la mano Dietro Bellissimo Il ghiaccio Sì ma devi stare tranquilla Un attimo Che cerchiamo la limonata Perché tu Mi parti È quella gialla Ma va Questa Giusto Sì intanto Allora Numero uno Guarda Le fette di limone Si possono pure aprire Ok adesso lo facciamo tutto Apri tutti i sacchetti Metti qui tutto davanti In modo che possiamo Io credo che sveglia È veramente bella Cos'è Ah quella è la resina Questa è la resina Questa è la famosa resina Che andrà versata All'interno Quindi sarà una resina Già di colore giallo Facciamoli vedere Abbiamo il ghiaccio Abbiamo questi E quindi cosa facciamo Allora Qui lasciare Si dice di lasciare In esposizione Mettere prima La resina Veramente prima La resina Io avrei messo prima Le fettine Fino a questo livello E poi aggiungere I limoni E il ghiaccio E poi per ultimo La cannuccia Capito? Allora questi Ero di là Allora aspetta Guarda che bella La cannuccia Sembra una cannuccia vera Eh sì è vero Intanto Apro un attimo I limoni Per farli vedere Sì sì Ecco apriamo i limoni E apriamo anche il ghiaccio Perché tanto Vi ho fatto vedere Anche il ghiaccio Oddio ma è tutto Super realistico Sono chiuse Vediamo il ghiaccio Il ghiaccio è pazzesco Oddio sembra Caduto Lì Sembra vero Quindi lo rimettiamo nel sacchettino Questa è la prima volta Speriamo che venga bene Allora dice di apri quello Lo apro io E qui abbiamo Da stappare Non è assolutissimamente In nessun modo Da bere È tossico Non si beve Non si usano i denti Per aprire le confezioni Si ha la pazienza Di avere una forbice Da qualche parte Giusto? Ce l'ho ce l'ho E anzi Vi metto anche gli occhiali Per vedere meglio Guardate con le pinzette Prendo Un po' di ghiaccio Guardate che carino Se riesco a mettere fuoco Sembra ghiaccio vero Si Ma prova a metterli dentro Alla Alla boccetta Intanto che cerco di aprire No perché vanno come numero 2 L'hanno sigillata molto bene Complimenti Ma secondo te ci vanno tutte? Tutto il ghiaccio? No il ghiaccio non credo tutto Il limone si Tanto sono tre fettine Ok Allora Ha un odore terribile Infatti vedete che lo dice Non ingerire assolutamente Andiamo a versare Ma io voglio vedere com'è Oddio No Ma che bello Ora io arrivo Penso che quello che c'è dentro Sia la quantità giusta Allora è difficile sapere se è uscito tutto Perché Io metto i limoni Aspetta aspetta che lo finisco di poggiare E finisco di spremere Sì la quantità è esattamente tutta quella che c'è dentro Ok Adesso poi rimettiamo il tappo in modo da non macchiare Insieme alternati limoni e ghiaccio Perché ne tiro fuori un pochettino che ho paura di tirarne fuori troppi Un paio di ghiaccioli poi comincio a mettere i limoni Perché se no non so se ci stanno tutti Il ghiaccio non credo tutto appunto Infatti dice che ci potrebbero essere delle parti in più Vai di limone Aspetta che faccio vedere intanto Intanto vi faccio vedere come si sta formando E vediamo Limone Poi con la cannuccia spingendola La roba va verso il basso immagino La cannuccia deve essere più o meno verticale Vedete così dovrebbe venire Poi si dovrebbe diventare un po' più Qualche ghiaccio ancora ci sta Ok allora mi aggiungo un pochettino Non mescolare però La cannuccia infila, inclinala leggermente e lasciala così Guardate che bello Questo poi si solidificherà Aspetta posso Metto l'ultimo ghiacciato Sì lo puoi mettere anche dopo Il problema è che se il ghiaccio non tocca Perfetto Vai Ok la cannuccia la teniamo così Mamma mia che bello Allora secondo me si schiarisce un po' Ma questa cosa la vedrete Quando? Quando apriremo La scatola numero 2 A quel punto questa si sarà solidificata E vedremo il risultato finale di questo Ma guardate che bello Già si vede in trasparenza Happy summer farm E secondo me puoi metterne altro di ghiaccio lo sai Perché qui fa vedere guarda Che esce fuori praticamente Quindi secondo me puoi aggiungerne un bel po' E si controllerà la solidificazione del tutto Solo tramite la pinzetta Quindi cercate di fare questo lavoro Magari anche con qualcuno che vi dà una mano In base alla vostra età Siccome quelli attaccati su non si solidificheranno Vanno un attimo spinti a contatto Perfetto Io direi che così è più che sufficiente C'è tanto ghiaccio sopra Il limone si intravede benissimo Guardate che bello Quei ghiacciolini li teniamo per i bicchieri della Barbie Quindi per il momento Molto 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 bello Poi a noi piacciono queste palline Che contengono queste cose così strane Sperando di trovarne uno diverso Tra tutti quelli che abbiamo intravisto Praticamente ragazzi appena aprite Troverete questo In base a questo capite subito qual è Cioè per esempio qua c'è scritto Keep cool con rose E ho capito che era la limonata Quindi bellissimo Non l'avevo ancora visto da vicino Bello cavolo Commentate se li avete anche voi Quale avete trovato Io vi ricordo di iscrivervi al canale E se vi piacciono E se volete altri contenuti simili Tipo questi Certo Iscrivetevi al canale Mettetevi a condividere Commentare Schiacciate la campanella Per il seggiorno su tutti i video E come sempre Noi vi saldiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao